Registrati per ricevere i coupon. Non importa all'ingrosso e al dettaglio o come regalo per parenti e amici. PandaHall soddisfa tutte le tue esigenze di gioielleria. Spedizioni in tutto il mondo, resi e cambi senza preoccupazioni. PandaHall rende lo shopping più facile. Scansiona il codice QR o visita il sito web per scoprire ulteriori sconti.